Salve, questo è il primo video del mio canale YouTube e ho deciso di dedicarlo a due articoli apparci sulla Repubblica nello stesso giorno, alcuni mesi fa, che mi hanno suscitato una riflessione. Il primo articolo è un articolo su Il Sina, un paese in provincia di Matera, ed è un video articolo. Il secondo articolo è un articolo su Milano, apparso in realtà sul Business Insider, ma collegato a Repubblica tramite un link. Nel video articolo su Il Sina vediamo descritta la realtà degli ultimi decenni di questo paesino, il quale ha visto l'afflusso, l'arrivo di pensionati dall'Europa, ma anche dal Canada, pensionati scozzesi, danesi, americani, e anche figli di emigrati italiani di terza o quarta generazione, i quali pensionati hanno nel corso di questi dieci anni investito delle somme per acquistare appartamenti e case e per sviluppare e ristrutturare queste case. Parla a un certo punto, viene intervistato a un certo punto il sindaco di Il Sina, il quale specifica che questi investimenti hanno totalizzato nel corso di questi dieci anni dai 3-4 milioni di euro in totale, per cui l'investimento anno che questi pensionati fanno nel paesino si aggira intorno ai 300-400 mila euro annui. Nel corso del video ci sono interviste ai pensionati stessi e tutti descrivono chiaramente la bontà del luogo, la bontà del cibo, del clima, della gente, l'ospitalità, la pace e la serenità che si vive, soprattutto se è confrontata con città come Londra, nella quale suppongo alcuni di questi pensionati a cui fanno riferimento, che fanno riferimento a Londra, ha vissuto nella loro carriera, nella loro vita professionale e lavorativa. Questo articolo si chiude, questo video articolo si chiude appunto con un invito del sindaco e di un agente immobiliare di andare a Il Sina, di investire in appartamenti, in case, dire strutturale, così da ravvivare ancora di più questa, questa, la realtà di questo, di questo piccolo paese. Al contempo, nello stesso quotidiano, nello stesso giorno, proprio pochi minuti dopo aver letto questo, visto questo articolo, ho cliccato su questo link che collegava al Business Insider e ho trovato un altro articolo, questa volta non un video articolo ma un articolo normale, che parlava dell'investimento che verrà fatto a Milano, che è in fase di finalizzazione come progetto, anche se ci sono le solite storie che si verificano in Italia per quanto riguarda accordi con società, parti, comune e quant'altro, non voglio entrare nel merito, ma comunque questo articolo parla dell'investimento che si farà a Milano per la riqualificazione di sette scali ferroviari che sono stati abbandonati, che sono in disuso da diversi decenni, questi scali ferroviari appartenenti alla ferrovia dello Stato, ma ripeto, non voglio entrare nella polemica, nel merito, però voglio sottolineare come questo articolo segnale che ci sarà un investimento di un miliardo di euro, un miliardo di euro, per un totale di 1.1 milioni di metri quadri, equivalenti a 170 campi da calcio, 170 campi da calcio. Il terreno sul quale verrà investito da parte delle ferrovie dello Stato, che al contempo già sono in possesso, sono i proprietari di questi suoli, di questo suolo con le rispettive ferrovie in disuso e quant'altro, le attrezzature. Quindi questo investimento verrà sviluppato nell'arco di 5, 10, 15 anni, questo ancora è da vedere, poi c'è tutta la polemica relativa quanto dovrà essere destinato ad attività o a finalità sociali, per cui case popolari o parchi, giardini, librerie e quanto dovrà essere destinato a, al contrario, appartamenti di lusso, attività commerciali e quant'altro attraverso le quali le ferrovie potranno rifarsi dell'investimento. Ma, ripeto, in questa polemica che l'articolo descrive non è, non voglio entrare perché non è quello di cui voglio discutere. Quello che voglio discutere in questo, quello che voglio sottolineare con questo video è la, diciamo, la differenza che ancora una volta si nota, questo messaggio subliminale che passa in un quotidiano italiano dove da un lato si vede che in un paesino del sud si deve tirare avanti con tutto il dovuto rispetto, sperando nel pensionato scostese che viene a investire i suoi risparmi nel rifacimento degli scalini di casa piuttosto che del balcone della sua casa che ha comprato per un prezzo complessivo di 50.000 euro. E dall'altro, invece, si ha un investimento enorme, gigantesco, di un miliardo di euro, fatto dove? Al nord. Chiaramente voi mi direte che si tratta di Milano da un lato e di un piccolo paesino dall'altro. Sì, però questo piccolo paesino si trova, ironia della sorte, in Basilicata, la regione che non ha autostrade, la regione che non ha aeroporti, la regione che ha Matera, capitata della cultura, la quale è irraggiungibile sostanzialmente con ognuno di questi tre mezzi. Non c'è un'autostrada che è a Matera, non c'è un treno delle ferrovie che arrivi a Matera, delle ferrovie dell'estate che arrivi a Matera, non c'è un aeroporto nella regione Basilicata. Ecco, quindi la riflessione che a me è venuta, che è sorta spontanea, se vogliamo, appena ho letto questi due articoli, è stata, ecco, un messaggio subliminale che passa ancora. Al nord investiamo, al nord creiamo, al nord abbiamo miliardi da spendere, centinaia di milioni e miliardi da spendere, al sud il sud deve farcela da solo, benché vada, nella migliore delle ipotesi, se qualcosa la gente vuole fare al sud deve farcela con i soldi propri o aspettando, sperando, nel pensionato scozzese o canadese italiano di quarta generazione che investe i suoi risparmi nell'economia di un piccolo risparmi nell'economia di un piccolo paese. Si sottolinea anche come alla fine dell'articolo sull'investimento a Milano, l'ultimo paragrafetto dice proprio che Milano attende questa rivoluzione da 25 anni per permetterle di essere sempre più competitiva e di essere come è una delle città più ambite al mondo. Poi se Milano sia, adesso se Milano sia una città più ambite al mondo, questa è tutto da vedere e da discutere. Che avesse bisogno da 25 anni, questa è anche tutto da discutere, perché voglio dire, è ovvio che è sotto gli occhi di tutti la sproporzione demografica, economica, di investimenti che c'è tra il nord e il sud e di cui Milano chiaramente è da sempre il centro che ne beneficia di più. Quindi di questa rivoluzione non credo che se ne sentisse questa grandissima impellenza, soprattutto ai giorni d'oggi, al giorno d'oggi soprattutto per come adesso, per quella che è adesso la situazione italiana e per quanto spaccata in due sia adesso l'Italia tra sud e nord.